La nuova Tardegna è venuta a riempire il rischio idrogeologico nello 81% dei comuni cazzi. In Tardegna 300% dei comuni dinamici oltre nel proprio territorio ha derivato il rischio idrogeologico per frane e dall'idio. Il fatto che rileva questo la col diretti a questa situazione è un rischio sicuramente interessante, non è? Certo, in quest'anno si fa un rischio di agricoltori nelle aree marginali che per frienderemo in montagne, collina, uccementi migrati, in seaulura. E questo insomma, se vogliamo, è anche il risultato del trascirà, una serie ovviamente di fattori. E poi anche ora, dicevamo dei... Grazie.